Si rinnova oggi la commemorazione dei defunti, nel capoluogo non mancano le polemiche e i disagi relativi alla manutenzione del cimitero cittadino. Diminuisce in tutta Italia il numero di vittime per incidenti stradali, andamento inverso in Molise che si piazza al terzo posto in graduatoria. Dovrebbe prendere avvio l'8 dicembre la stagione invernale a Campitello Matesi, a poco più di un mese non ci sono certezze sull'apertura degli impianti. Il Campobasso torna a giocare sul rettangolo di Contrada Selvapiana dove arriva la lucchese in occasione della tredicesima giornata di Serie C. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori e bentrovati con l'informazione di TLT. Oggi la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti a Campobasso. La Santa Messa presieduta dal Vescovo di Campobasso, Monsignor Biaggio Colaianni. Nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, il messaggio dell'Arcivescovo Biaggio Colaianni durante la celebrazione eucaristica che si è tenuta al cimitero di Campobasso. Se la scomparsa fisica delle persone care, queste le sue parole, fa sentire con sofferenza un'irraggiungibile lontananza, mediante la fede e la preghiera si sperimenta con loro una più intima comunione. Noi siamo abituati a pensare sempre al termine e al finire delle cose. In Dio le cose non finiscono, hanno una continuità che crea situazioni e rapporto differente. Infatti il rapporto con Dio per chi è deceduto è di pianezza dal punto di vista spirituale. Per noi è ancora un intravedere il Signore. Però il momento in cui ci rivolgiamo al Signore, noi creiamo quella comunione tra vivi e defunti, che la Chiesa è chiesa celeste e terrestre. Per cui siamo in comunione con i nostri cari defunti, grazie alla preghiera, grazie ai nostri voluti a Dio, che è il Dio che amiamo, che adoriamo, è il Dio della vita, non della morte. Allora è per la continuità della vita dopo la morte che ha sconfitto. Se non avrebbe senso la vita di Gesù Cristo in mezzo a noi e il fatto di aver subito anche Lui la morte, lo ha fatto per dare oggi a noi la possibilità di dirci, ma c'è la risurrezione che il Signore ci ha donato. Il rapporto di continuità va elaborato interiormente e spiritualmente. Certo è che il dolore umano rimane. E quando si perde una persona cara, e penso un pensiero particolare alle mamme, perché la morte di un figlio è una sofferenza, un dolore incolmabile, si creano delle ferite, delle ferite che vanno lenite. La preghiera diventa consolazione, diventa il lenire le ferite che si sono subite, le ferite del cuore e dell'anima. A proposito della commemorazione dei defunti, non mancano polemiche e disagi per la poca manutenzione al cimitero del capoluogo. Ricorre oggi, sabato 2 novembre, la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Da tempo ormai sempre più persone si recano al cimitero anche il primo novembre, così come è accaduto a Campobasso, dove in molti hanno fatto visita da ieri ai propri cari, nell'ala vecchia e in quella nuova. Un rituale che si rinnova anno dopo anno, nonostante diversi problemi che attanagliano da tempo e memore il luogo di culto del capoluogo. La problematica maggiore riguarda le infiltrazioni di acqua, soprattutto nelle cappelle dell'ala nuova. In alcuni casi sono già stati fatti lavori, in altri sono stati rimandati. Sta di fatto che la situazione del cimitero continua a destare polemiche a causa della scarsa manutenzione. Sul tema è intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Stefania Di Claudio, che ha denunciato le condizioni inaccettabili, con lavandini intasati, perdite d'acqua e sistemi di scari costruiti da detriti. La commemorazione dei defunti è un momento di grande sensibilità, ha dichiarato, che richiederebbe una cura costante e attenta della struttura cimiteriale, soprattutto in giornate come questa, dove il numero di visitatori aumenta notevolmente. L'appello del consigliere si rivolge all'amministrazione comunale affinché intervenga per ristabilire il decoro e la funzionalità dei servizi cimiteriali. Auspico che vengano presi provvedimenti in tempi brevi per evitare ulteriori disagi e per garantire che i cittadini possano onorare i propri cari in un ambiente rispettoso e curato. Nella ricorrenza della commemorazione dei defunti, questa mattina si è svolta la cerimonia di scoprimento di un cippo marmoreo collocato all'ingresso della questura di Campobasso dedicato alla memoria dei caduti della Polizia di Stato. Dopo la benedizione del cappellano provinciale Don Francesco Rinaldi e l'esecuzione del silenzio da parte di un allievo del conservatorio musicale Lorenzo Perosi, è stata deposta una corona di alloro per ricordare il sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere. Diminuito in tutta Italia il dato complessivo delle vittime di incidenti stradali nel 2023 in Molise, bilancio inverso, sentiamo. Uno dei temi strettamente attuali riguarda gli incidenti stradali. Nel 2023 sono diminuite le vittime ma non in Molise e quanto emerso dai dati diffusi dall'Issat in merito al tema. Se a livello nazionale le vittime della strada sono in diminuzione seppur lievemente, in regione l'andamento è differente. Stando alle statistiche la regione si piazza al terzo posto con un aumento pari al 14% di vittime. Tra le province che registrano l'indice di mortalità più che doppio rispetto al dato medio nazionale pari a 1,82 morti ogni 100 incidenti, c'è anche Campobasso dove lo scorso anno sono stati 322 gli incidenti con 12 vittime e 505 feriti. Quest'anno fino ad ottobre gli eventi tragici sulle strade del Molise sono pari a 7. Qualora il dato dovesse essere confermato aumentato di qualche unità significherebbe che nel 2024 il numero di vittime sarebbe in diminuzione. Attualmente si tratta di una riduzione di oltre il 50% rispetto all'anno precedente, ma comunque si tratta di un dato provvisorio. Brutto incidente quello che si è verificato ieri sera sulla strada. Statale 85 e Venafrana in direzione Sesto Campano. Un giovane alla guida della sua moto ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro il guardrail. Sul posto la polizia stradale e gli operatori del 118 che hanno provveduto a soccorrere il centauro prima di trasportarlo al veneziale di Isernia. Intervenuti anche gli agenti della stradale per effettuare tutti i rilievi del caso. È prevista per l'8 dicembre la partenza della stagione invernale a Campitello Matese. A distanza di poco più di un mese, ancora nessuno ha certezza sull'apertura degli impianti. Con la stagione invernale si accende il dibattito sul futuro della montagna molisana e sulla necessità di una pianificazione precisa che permetta alla località sciistica, agli operatori turistici di lavorare nel miglior modo possibile. È il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, che in una interpellanza si rivolge direttamente al presidente dell'Aggiunta, Roberti, chiedendo delucidazioni sull'attuale situazione di Campitello Matese per evitare che piste e impianti di risalita aprano a regime ridotto. L'8 dicembre la data fissata per il via ufficiale delle attività, mentre ancora non vi sono certezze, è sull'apertura della seggiovia Lavarelle, che muove il 90% dei turisti. Questo perché manca la manutenzione straordinaria, un intervento significativo per cui occorre impegnare circa 900 mila euro, un ritardo dovuto alla situazione finanziaria e societaria in cui versa la partecipata regionale Funivie Molise, che è in attesa di un riscontro dal Tribunale sulla richiesta di concordato preventivo. Una situazione, secondo l'esponente, che doveva essere calcolata. Se a dicembre dovesse nevicare, questa è la conclusione del pentastellato, è praticamente certo che la stazione sciistica più importante della regione, quella che dovrebbe essere una delle più attrattive del centro-sud Italia, come avveniva un tempo, non sarà in grado di offrire un'offerta completa ai visitatori per i soliti problemi che da anni ne frenano lo sviluppo, nonostante la buona volontà e l'impegno di albergatori, operatori e gestori degli impianti. Ed è candido paglione responsabile per il Molise dell'Unione Nazionale dei Comuni, comunità ed enti montani a lanciare un appello per dire basta ai tagli ai finanziamenti per gli enti locali in vista dell'approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Il sindaco di Capracotta sottolinea la necessità di incrementare i fondi per la montagna attraverso l'apposito fondo ad essa destinati fino a un miliardo di euro l'anno. Nelle realtà del meridione d'Italia sono in aumento le condizioni di povertà assoluta e di profondo disagio abitativo per morosità, una condizione di emergenza che tocca anche il Molise. In Italia vivono in povertà estrema quasi 5 milioni e 700 mila persone. Nel sud Italia e quindi anche in Molise le condizioni di bisogno più significative rispetto al resto del Paese. Oltre ai dati sulla povertà preoccupa in regione il disagio abitativo, sono infatti 390 gli sfratti eseguiti nel 2022 e i 114 quelli emessi lo scorso anno imputabili alla morosità degli inquilini, quasi tutti concentrati nella città capoluogo. Per quanto riguarda invece la marginalità sociale, coloro i quali si trovano senza dimora, il quadro si fa ulteriormente più pesante. Tra agosto 2022 e settembre di quest'anno, 167 persone hanno beneficiato dei servizi sociali. Da più di vent'anni i governi che si sono succeduti a Roma hanno abbandonato qualsiasi politica per la casa. Con la diminuzione degli alloggi di edilizia popolare, le famiglie si ritrovano così in balia del mercato e spesso a rischio di esclusione. Per l'attuale governo della Premier Giorgia Meloni, il problema non è l'assenza di case popolari. In Italia sono appena il 4% del totale, nelle più di 70.000 vuote in tutta la penisola, negli affitti alle stelle. Se troppi cittadini non hanno una casa, è a causa di chi occupa immobili sfitti. Per le associazioni la città invisibile di Termoli e la casa del popolo a Campobasso è necessario mettere la questione sociale al centro dell'agenda politica attraverso interventi che vanno dalla realizzazione di nuovi alloggi popolari al ripristino delle misure di sostegno all'affitto e al reddito dall'introduzione di leve fiscali per disincentivare gli affitti brevi al riuso di edifici pubblici abbandonati. Dopo l'arrivo al punto nascita dell'ospedale della cittadina adriatica del dottor Vincenzo Biondelli che subentra al dottor Saverio Flocco è il direttore generale dell'azienda sanitaria a esprimere soddisfazione per l'avvio del nuovo corso. Il Santimotio di Termoli ha rimarcato di santo è una struttura di confine fondamentale con il suo potenziamento con la venuta di bravi professionisti e le garanzie di cure efficaci ed efficienti puntiamo a ridurre sempre più magari fino ad azzerarla la mobilità passiva. Al dottor Biondelli l'augurio di un buon e proficuo lavoro. Storia, tecnologia, formazione educativa e turismo Isernia si prepara ad aprire il moderno Museo Emozionale della Preistoria. Promuovere il patrimonio artistico e storico di Isernia la proposta dell'amministrazione a Palazzo San Francesco ha visto chiudere le procedure di gara per la realizzazione del Museo Emozionale dalla Preistoria al futuro. L'appalto rientra nel programma di intervento per la riqualificazione urbana e si basa su un progetto integrato che comprende 18 interventi tra i quali il museo che sorgerà nell'auditorium Unità d'Italia la ditta Califel azienda molisana di installazione di impianti tecnologici si è giudicata all'appalto con un'offerta del valore di poco inferiore il 1.300.000 euro. Il Museo Emozionale promette un'esperienza interattiva accompagnando i visitatori in un percorso educativo e multisensoriale che attraversa milioni di anni con un punto focale sulle nuove tecnologie un passo importante nella valorizzazione culturale della città raggiunto dall'amministrazione del sindaco Piero Castrataro con la finalità di dare una spinta in più oppure al turismo locale un salto nel futuro con uno sguardo alle potenzialità didattiche formative in grado di migliorare le conoscenze culturali rivolte a giovani ed adulti Dopo la tragica scomparsa di Liam Pine il musicista britannico caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires a Termoli il ricordo dei fan Liam Pine è precipitato da un balcone dal terzo piano e il suo corpo è stato ritrovato in un cortile all'interno dell'albergo dove alloggiava il 16 ottobre scorso la sua tragica morte ha gettato in uno sconforto i milioni di fans che aveva in tutto il mondo l'ex membro del Young Direction fin da piccolo come hanno dichiarato la stampa i suoi genitori si portava dietro problemi gravi di salute ad agosto il cantante aveva cancellato il suo tour sudamericano a causa di problemi di salute avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre ma a causa sempre di un grave infezione ai reni aveva sospeso i concerti in tutto il mondo dunque anche in Italia in diverse città compresa Termoli gruppi di fans dello sfortunato artista si sono riuniti per un ricordo a memoria a Termoli in piazza Monumento un gruppo di ragazze si sono riunite hanno portato foto e poster di Liam Pine e tra un racconto un ricordo e l'intonare di alcune hit dello stesso hanno voluto omaggiare la sua prematura scomparsa ci eravamo così tanto legate ci siamo messi d'accordo tutti quanti ognuno doveva portare qualcosa così da poter allestire per bene la panchina ci sono tanti gruppi dove ci siamo organizzate ne faremo anche uno a campo basso abbiamo fatto uno qui a Termoli e uno a campo basso e poi vabbè ci sono stati anche a Napoli Roma diciamo in queste parti più grandi dell'Italia a parte che era un cantante bravissimo eccezionale e l'ho conosciuto con l'Ele One Direction quindi da quando ero piccola cantavo le sue canzoni e canto le sue canzoni anche adesso siamo molto legate comunque è stata una parte della nostra infanzia noi siamo cresciuti insieme e siamo cresciuti ascoltati One Direction anche quando si sono divisi comunque li abbiamo sempre ascoltati e anche la solistia e adesso un'occhiata al meteo prima di passare allo sport metal impianti carpenterie metalliche civili e industriali scale acciaio corten serramenti in alluminio pvc e legno alluminio metal impianti boiano info 0874 77 34 54 la gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori 30 anni di esperienza nel settore la gamma commerciale e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo Nel pomeriggio e in serata cielo sereno le temperature in Molise sono comprese tra la minima di 11 gradi a Campobasso alla massima di 21 a Disernia e in Abruzzo tra i 9 gradi dell'Aquila e 22 di Pescara venti moderati da nord-ovest mosso il mare Adriatico cielo in prevalenza soleggiato nella mattinata di domani valori climatici senza significative variazioni tredicesima giornata di andata nel calcio professionistico di Serie C il Campobasso scendere in campo domani alle ore 15 in casa contro la Lucchese Calcio di Serie C Girone B Gli incontri Ternana Spal Torres Pianese Gubbio Rimini Vispesaro Pescara Campobasso Lucchese Legnago Perugia Arezzo Ascoli Pontedera Milan Futuro Pineto Carpi Sestri Levante Virtusentella Pescara al comando 29 punti Torres 25 Ternana Virtusentella 23 punti Arezzo 22 Vispesaro e Campobasso 19 Pianese Rimini 17 punti Gubbio 15 Pineto e Carpi 14 Perugia e Lucchese 13 punti Pontedera 11 Sestri Levante 10 Ascoli e Milano Futuro 9 Chiudono la spalla 8 punti e Legnago a 6 In vista della gara casalinga di domani del Campobasso contro la Lucchese ascoltiamo il centrocampista Rosso Blu Sonni D'Angelo Il Campobasso tornerà in campo domani allo stadio Molinari dove arriverà la Lucchese in occasione della tredicesima giornata di campionato Ai microfoni il centrocampista Sonni D'Angelo che non ha nascosto la difficoltà del campionato in corso Intanto l'obiettivo è sempre quello di salvare prima possibile la categoria Poi se arriviamo entro le prime 10 è una cosa importantissima e ce la possiamo giocare Io comunque penso che se andiamo a analizzare anche le vecchie partite noi meritavamo qualche punto in più Perché anche le prime giornate comunque siamo rimasti in 10 Anche ad Arezzo Tutte le Levante Bianca Stagnaio che per me è stata anzi la svolta quella partita Che ci ha fatto tornare con i piedi per terra Però comunque le ultime due sì a livello di gioco un po' abbiamo fatto meno Però comunque quando giochi tante partite in una settimana fisicamente un po' lo senti Però noi dobbiamo continuare sulla nostra strada La classifica è giusta Secondo me meritiamo qualche punto in più Cerchiamo di prendere il bottino pieno domani Quando mi ha chiamato il mister e qui comunque quando prendi un allenatore come lui La squadra bene o male si fa Cioè si fa un campionato importante Noi dobbiamo essere la mina vacante Dobbiamo pensare ogni domenica ogni settimana a giocarcela con tutti Sapendo che è un campionato difficile Sapendo che comunque anche la Lucchese che domani arriva abbiamo visto i video È una squadra attrezzata che gioca Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi Perché ce la possiamo giocare con tutti È una cosa importantissima quello che fa il mister Perché comunque ci mette tutti sullo stesso livello come giusto che sia E noi dobbiamo allenarci Chi si allena bene e chi sta bene alla fine gioca Infatti noi facciamo allenamenti ad altissima intensità Perché fino ad oggi ancora non sappiamo chi gioca Quindi figurati se è lui Quindi secondo me questa è una cosa molto importante Decimo turno nel calcio di Serie D Girone F Domani pomeriggio il Termoli ospiterà al Cannarsel Senigallia L'Isernia viaggerà alla volta di Civitanova a Marche Calcio di Serie D Atletico Ascoli Avezzano Termoli Vigor Senigallia Fermana Teramo L'Aquila Fossombrone Notaresco Roma City Re Canatese Castelfidardo San Benedettese Ancona Sora Chieti E Civitanovese Isernia Al comando un terzetto a 18 punti Composto da San Benedettese, Chieti e Teramo Atletico Ascoli a 17 Fossombrone e L'Aquila a 16 Vigor Senigallia Isernia a 14 punti Ancona e Sora a 12 Roma City e Termoli a 11 Re Canatese a 9 punti Civitanovese a 8 Notaresco e Avezzano a 7 Castelfidardo e Fermana a 6 punti Il calcio dilettantistico regionale è giunto alla nona giornata di andata Andiamo a vedere gli incontri in programma in questo fine settimana in eccellenza e promozione Calcio di eccellenza Esernia, Boiano, Sporting, Campomarino, Castel di Sangro Virtus, Gioiese, Bois, Vairano Matese, Aurora Alto, Casertano Ripali, Mosani, Real, Guglionesi Vasto Girardi, Atletico, San Pietro Benafro, Limpia, Agnonese Montenero, Sesto, Campano Vasto Girardi 24 punti Real Guglionesi segue a 22 Sporting, Campomarino, Aurora Alto, Casertano e Castel di Sangro 14 punti Matese 13, Benafro 12, Olimpia Agnonese, Montenero, Boiano e Atletico San Pietro e Virtus Gioiese a 10 punti Sesto Campano 7, Ripali, Mosani 6, Esernia, Fraterna 3 punti Bois, Vairano chiude a 2 Promozione Morcone, Rufre, Presenzano Torre Maggiore, Juvenes, Campobasso Baranello, Difesa, Grande Termoli Chaminat, Campobasso, Forulum Rocca, Ravindola, Trivento Fortore, Alife Spinete, Locomotive, Riccia Calena, Guardia Alfiera Al comando Forulum 21 punti Baranello 19, Alife 17, Torre Maggiore 15 Trivento, Guardia Alfiera e Chaminata 13 punti Locomotive Riccia 12 Juvenes 11, Spinete 10 punti Rufre, Presenzano e Rocca Ravindola 7 punti Morcone 6, Calena 4, Difesa, Grande Termoli 1 Quarta giornata nel campionato di calcio A5 nazionale di serie A2 Elite Il Cusmolise ospita oggi alle ore 16 la polisportiva futura Al Panaunimol di Campobasso Nelle grafiche gli incontri e la classifica del girone B Calcio A5 di A2 Elite Itria, Taranto, Cusmolise, polisportiva futura Mascaluccia, Capurso Tombesi, Lazio, Ternana, Pescara Roma, Città di Melilli, Riposa il Giovinazzo Lazio 7 punti Capurso, Itria, Polisportiva futura e Mascaluccia 6 punti Giovinazzo 4, Cusmolise, Pescara e Roma 3 Città di Melilli e Ternana 2 Ad un punto Taranto e Tombesi Sesta giornata invece nella massima serie della pallacanestro femminile italiana Rimbiata nelle prossime settimane la gara tra la Magnolia Basket e il San Martino di Lupari Settimo turno nel basket femminile Alpo Dinamo, Sassari, Battipaglia, Dertona Reier Venezia, Brixia, Brescia Faenza, Sesto San Giovanni Magnolia, San Martino di Lupari, Riposa, Basket, Schio Schio 10 punti, Reier Venezia e Magnolia Campopasso 8 punti Dertona e Faenza 6 Dinamo Sassari 4 Sesto San Giovanni, Brixia, Brescia, Alpo e Battipaglia 2 punti, ancora 0 il San Martino di Lupari E questo era l'ultimo servizio Il nostro telegiornale termina qui Grazie come sempre per averci seguito Buon proseguimento Grazie a tutti